Carissimi amici, ben trovati per questa nuova puntata della rubrica Testimoni. In questa puntata, per raccontare di un nuovo personaggio, di un nuovo testimone, prendo un ricordo dei miei anni di seminario, quando arrivarono per la prima volta due seminaristi indiani, due seminaristi dei seminari indiani mandati dal loro Vescovo. E noi eravamo molto curiosi di sapere perché erano venuti, per quale motivo due seminaristi indiani in una terra di missione come l'India, dal nostro punto di vista, non stavano missionari a casa loro. Perché venire qua? Noi siamo noi i missionari che vanno in tutte le parti del mondo. E loro ci sorprezzero dicendo che il nostro Vescovo ci dice, andate in Italia, in Europa, per restituire quella fede che dall'Europa c'era stata donata. Adesso la fede in Europa non c'è più, o almeno si è tanto addormentata, tanto raffreddata, che è necessario che noi restituiamo questa nostra fede. Noi resistevamo a questa affermazione, un po' sorridendo, dicendo ma cosa vanno dicendoci. Poi davvero pensandoci siamo rimasti colpiti dal fatto che l'Europa cristiana viene vista da altri punti di vista, da altri continenti, da altri nazioni o stati, da altre esperienze cristiane, come una terra addormentata nella sua fede. In questo tempo di avvento, dove la liturgia ci riporta in particolare la parola svegliatevi dal sonno, non dovete dormire, vigilate, siate vigilanti nell'attesa del Signore che viene, ecco questo messaggio risuona assai attuale. E così ho scelto, ispirato appunto dalla terra dell'India, di parlarvi di San Francesco Saverio, un santo di cui la Chiesa fa memoria il 3 dicembre di ogni anno. San Francesco Saverio è un gesuita, gesuita come lo è il nostro Papa Francesco, gesuita cioè appartenente alla congregazione religiosa detta la Compagnia di Gesù fondata da Sant'Ignazio di Loyola. San Francesco Saverio, giovane spagnolo in terra di Navarra, nato nel 1506 dalla nobile famiglia di Xavier appunto, va a Parigi a studiare. Si ritrova, pensate, in camera, come compagno di camera, niente proprio di meno che Ignazio de Loyola stesso, il quale aveva già avuto una forte esperienza di Dio e infiammato di amore per Cristo e per il Vangelo, voleva trasmettere a tutti coloro che incontrava, in particolare ai giovani di buona volontà, giovani in gamba, questa sua stessa passione. L'altro compagno di camera era Pietro Fabro, il quale subito fu affascinato dalla figura di Ignazio e decide di seguirlo nell'esperienza che il Signore avrebbe mostrato loro. Più dura fu la resistenza di Francesco Saverio, anche se il suo biografo dice mentre Francesco Saverio resisteva a Ignazio, alla sua testimonianza, al suo fuoco ardente di amore, in realtà sembrava un pesce che salta nell'acqua ma ormai l'amo è già nella sua bocca. E così il 15 agosto del 1534, quando Ignazio a Montmartre consacra se stesso e i suoi primi compagni a questa missione che il Signore va loro affidando, fra questi primi compagni c'è già anche Francesco Saverio. Francesco Saverio ha una passione forte, la missione. Sente nel suo cuore le parole che troviamo nella scrittura riportate dal grande apostolo evangelizzatore San Paolo di Tarzo, il quale dice «Guai a me se non annunciassi il Vangelo». È un imperativo forte che San Paolo sente e con la stessa forza anche Francesco Saverio vuole partire per la missione. E allora Ignazio lo prepara e dice «Guarda, tu sarai missionario in terra e lontane, però ti do alcuni criteri, imparali bene. Primo, quando incontrerai una civiltà, una cultura, una popolazione, delle persone, tu devi riuscire ad entrare nella loro psicologia, nella loro cultura, nelle loro tradizioni, nel loro modo di pensare, soltanto in questo modo, incarnandoti in quella realtà, tu potrai davvero mostrare la via del Vangelo. Secondo, fallo attraverso opere concrete di misericordia. L'annuncio del Vangelo non è una strazione, non è una dottrina teorica, ma è carità concreta, è amore, amore incarnato. E allora abbonda di opere di misericordia. Terzo, dedicati alla formazione di un clero locale. Ci siano sacerdoti e poi vescovi in quel luogo, gente di quel luogo, giovani di quel luogo, persone di quella cultura, di quella mentalità, che continueranno, dopo il tuo primo annuncio, l'opera che tu inizierai. E poi scrivi a me, dice Ignazio, rimaniamo in stretto contatto epistolare, raccontami quello che fai, quello che accade, quello che lo Spirito Santo suscita, perché il carisma che il Signore ci ha messo nel cuore non venga spento, non si risperda. E così, a 35 anni, dal porto di Lisbona, con la carica di nunzio apostolico, San Francesco Saverio parte per l'India. Esperienze bellissime, un viaggio di 13 lunghi mesi, una circunnavigazione dell'Africa per arrivare in India, nella città di Goa, che era un po' il cuore, il centro, il fulcro, la fonte, da cui poi partivano i missionari cristiani nell'India. A Goa, obbediente a Ignazio, lavora con i librosi, costruisce ospedali, poi si sposta, spinto dallo Spirito, al sud, a Capo Comorin, dove fa un'esperienza molto bella, trovando 20.000 persone appartenenti ad un gruppo etnico particolare, paravi, poveri pescatori analfabeti, lui mette in concreto, direi, quella frase di San Paolo, quando Paolo dice, mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno. Ecco, così fa Francesco Saverio, impara la lingua di questa gente, impara la cultura, si fa povero con loro, povero nei vestiti, camminerà scalzo come loro e tanti, tanti desiderano di essere battezzati nel nome di Gesù. Un'esperienza molto bella, ancora viene fatta nella regione di Travancore, dove all'inizio trova una normale resistenza, ci sono induisti, i capi religiosi, i bramini, vedono con paura, con resistenza, l'azione di Francesco Saverio, con questa sua nuova dottrina, però un giorno un'esperienza bellissima, mentre proprio davanti ai bramini Francesco Saverio parla loro, predica loro i dieci comandamenti, come legge naturale che Dio rivela alla coscienza dell'uomo, questi bramini, vedendo la passione, vedendo la forza delle parole che Francesco riporta, si alzano commossi, lo abbracciano, dicendo è vero, queste parole sono conformi alla ragione naturale, anche noi li comprendiamo, queste parole sono divine, perché è vero che questi dieci comandamenti corrispondono a ciò che l'uomo ha nel cuore, anche qua in India, noi riconosciamo che questa è verità. Ma ancora ci sono due desideri profondi nel cuore di questo appassionato, incredibile e coraggioso missionario. Il pensiero del Giappone e il pensiero della Cina, queste due favolose terre dove Francesco vuole che arrivi il Vangelo, si diffonda ancora di più, già missionari portoghesi sono sbarcati in Giappone, ma l'opera di evangelizzazione esige assai più impegno. Allora un giorno un segno, un giapponese di nome Angiro, un giovane, curiosissimo, comincia a fare domande, domande su domande sul cristianesimo, rimane affascinato, vuole sapere, non molla Francesco. Allora Francesco Saverio legge questo incontro come un segno, scriverà in una lettera a Ignazio, ecco io ho colto in questo uomo come una chiamata di Dio ad andare in Giappone a portare la fede. Angiro si fa battezzare, sceglie il nome di battesimo Paolo di Santa Fe e con lui va in Giappone dove, pensate, dopo un breve tempo di evangelizzazione, Francesco Saverio lascia una comunità, anzi tre comunità di 1500 persone di cristiani. Ecco, concludo con il sogno che in realtà non viene realizzato, rimane troncato per la giovane morte di Francesco Saverio all'età di 45 anni, l'evangelizzazione della Cina. Con un nuovo compagno di avventura, un cinese che studiava a Goa e che si era fatto battezzare, come traduttore prova ad andare in Cina, vorrebbe incontrare l'imperatore per parlare a lui della legge di Dio, ma poi si ammala davanti alla città di Canton di una malattia inguaribile e muore, muore nella gioia. Sentite un po' come il suo compagno lo coglie, lo coglie in questo ultimo momento della sua esistenza. Con gli occhi rivolti al cielo, con il volto molto allegro e a voce alta, a modo di preghiera, Francesco faceva alcuni discorsi di cose che io non capivo perché non erano nella nostra lingua. E così continuò a parlare con grandissimo fervore. Per cinque o sei ore aveva sempre in bocca il nome di Gesù. Morì all'alba del sabato 3 dicembre 1552, a 45 anni e mezzo di età. Ecco, il Papa ci richiama fortemente alla passione per il Vangelo, alla nuova evangelizzazione. Davvero questa Europa è addormentata nella sua fede. Lo gridava a quel tempo Francesco Saverio, ce lo grida oggi un altro Gesuita, il nostro Papa Francesco, ce lo grida la liturgia in questo tempo di avvento. Svegliatevi, vigilate perché il tempo della salvezza è vicino, il Signore viene. Buon percorso di avvento a tutti e alla prossima puntata.